Oggetto numero 20, interroga il Consigliere De Luca, risponde l'Assessore Melasecche, poi riprendiamo l'ordine generale. Prego, Consigliere De Luca. Grazie Presidente. Ma questa interrogazione purtroppo ha assunto un carattere di ulteriore attualità rispetto a quelli che sono stati gli eventi della scorsa settimana, che hanno interessato vasti brani del nostro territorio regionale e che come è prevedibile, ormai è acclarato anche di fronte a quelli che sono i più scettici detrattori di quello che sono le evidenze del cambiamento climatico che ormai sta interessando l'intero globo e che oggettivamente diventano sempre più evidenti nel carattere degli eventi di maltempo e come riescono ad incidere su quello che poi è l'assetto idrogeologico del nostro territorio che purtroppo per troppi anni ha visto una totale assenza di manutenzione sia dei corsi d'acqua principali della nostra regione ma anche per quello che riguarda la presenza di fossi, la presenza di infrastrutture su cui l'assenza di manutenzione poi va a incidere sul rischio e quindi sulla vita delle persone considerando poi fenomeni di cementificazione che per anni hanno completamente ignorato la presenza di queste problematiche andando a tombare torrenti, andando a contenere quello che era incontenibile quindi il riferimento attuale si rivolge a quello che è successo l'8 e 9 giugno 2020 con una situazione che ha colpito i comuni di Avigliano, Monte Castrelli, Acquasparta ed Amelia e su cui questa assemblea il 21 luglio 2020 con voto unanime aveva chiesto lo stanziamento dei fonti necessari alla copertura dei danni e la ripresa delle attività produttive a supporto delle istituzioni coinvolte porre in essere tutti quegli interventi strutturali e non strutturali finalizzati al consolidamento dei pentì stabili a difesa delle alluvioni quali la riqualificazione e il ripristino dei naturali alve e dei fossi interessati nonché la pulizia degli stessi finalizzata a un corretto deflusso delle acque e porre in essere una tempestiva programmazione regionale volta al contrasto del rischio idrogeologico e questa assemblea attraverso sopralluoghi della seconda commissione consigliare c'era il consigliere Nicchi, c'era il consigliere Bianconi, c'era il consigliere Bettarelli, Paparelli abbiamo potuto vedere come non solo per quello che riguarda il Rio Grande ad Amelia ma anche per quello che riguarda questi territori e quelle aziende coinvolte i danni sono stati veramente ma veramente importanti per non parlare poi dei danni anche sul patrimonio pubblico come le mura di Avigliano e quindi quello che c'è stato nell'assestamento di bilancio noi avevamo presentato un emendamento come minoranza per aumentare la cifra io credo minima di un milione di euro sconcludo Presidente di un milione di euro per poter dare ristori a questi comuni che consideriamo che il solo comune di Avigliano ammonta i danni a circa secondo le stime fatte dal comune quindi con interventi fatti in maniera dettagliata a 600 mila euro quindi supera di gran lunga quello che è la provvidenza attuale di 500 mila euro quindi interroghiamo l'aggiunta per sapere a quanto ammonta rispettivamente per ogni singolo comune coinvolto la quantificazione dei danni inviata alla direzione competente regionale e alla luce della esiguità quindi della non sufficienza dei fondi stanziati con quali priorità di intervento e attraverso quali strumenti si intende erogare tali somme ai comuni e ai privati danneggiati quindi prima le aziende poi le case poi le società sportive per capire quale sarà la priorità informando con ciò su quali criteri di ripartizione saranno adottati e in quale proporzione verranno attribuiti ad ogni parte Assessore Mela Secche la risposta meriterebbe sicuramente una durata di tempo maggiore di quello che ho a disposizione ricordo comunque che la legge nazionale sulla protezione civile che sto leggendo al volo prevede tre ipotesi i casi più semplici per farla breve una ipotesi che è quella assolutamente di riferimento rispetto all'interrogazione del consigliere De Luca e le emergenze di rilevo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale eccetera eccetera non c'è alcun dubbio che l'ipotesi di cui stiamo parlando rientri nel caso B cioè riferita agli eventi di tipo regionale ricordo che purtroppo questa è la verità che la regione Umbria non è dotata di una legge di questo tipo quindi è incredibile dover affrontare poter affrontare eventi di questo genere senza una legge specifica che ha hanno altre regioni tant'è che da circa due mesi stiamo elaborando un testo di legge sull'argomento confrontato con quello di altre regioni alla luce anche dell'esperienza recente che abbiamo avuto che consenta finalmente di affrontare questi temi che sono sempre più ricorrenti come diceva il consigliere prima recentemente c'è stato anche il il dissesto ad Amelia sul piazzale antistante la cattedrale altro tema su cui però ci sono probabilmente anche delle responsabilità in orde i lavori come erano stati fatti ad ogni buon conto come abbiamo affrontato il tema la presidente ha inviato a sua firma una lettera predisposta dall'assessorato al dipartimento nazionale protezione civile per sottoporre il tema e il dipartimento ci ha risposto chiedendo dettagli comune per comune abbiamo quindi sollecitato i vari comuni nel rendicontare le spese effettivamente sostenute per capire a quanto ammontava questo fenomeno perché lo ricordo le segnalazioni inviate nella fase iniziale dei comuni chiedevano somme generiche che poi abbiamo accertato sono di gran lunga superiori rispetto a quelle effettivamente sostenute comunque in quella fase non c'è stata mai da parte di alcun comune una rendicontazione precisa delle spese che hanno avuto successivamente abbiamo insistito e da quel punto sono cominciato a pervenire una serie di note abbastanza più precise le quali però le ho qui di fronte posso fornire poi i dati vanno dai 18.000 euro ai 28.000 euro 5.000 euro 10.000 euro cioè somme reali effettivamente sostenute che sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle che erano le richieste di fondi iniziali ora ricordo cerco di velocizzare che la risposta del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ricorda che bisogna tenere in considerazione solo per quanto riguarda la protezione civile le misure che trascendono le capacità operative e finanziarie degli enti competenti in ordinario in ragione dell'impatto della situazione emergenziale riguarda la collettività all'ambiente alla normale convivenza sociale eccetera quindi chiudo al momento mi è stata prerisposta un'ipotesi di ripartizione della somma che stiamo rivedendo in quanto lo stanziamento di 500 mila euro a bilancio prevede solo per i comuni quindi escluderebbe la provincia di Terni il che obiettivamente fa riflettere in quanto è stato quello l'intervento immediato per rimuovere i detriti da una strada stiamo valutando un attimo cosa fare se riusciamo con altri tipi di finanziamenti a venere incontro comunque a quelli che sono i danni maggiori per il patrimonio pubblico è in corso questa valutazione e farò presente al consigliere istante le decisioni che verranno prese in proposito grazie consigliere De Luca la replica ovviamente la legge quanto prima spero di poterla avviare verso l'iter previsto dalla normativa grazie io scusate ma ricordo a tutti per favore il rispetto dei tempi se no le question time finali non andranno nelle tv prego consigliere De Luca per via dei tempi grazie presidente ma le emergenze le tante emergenze locali e le emergenze regionali stanno diventando un'emergenza nazionale quindi l'emergenza nazionale è costituita dalle tante emergenze locali la legge ammetto indubbiamente che c'è un vulnus enorme sotto questo punto di vista ma una legge seppur d'appoggio c'è che è quella del 1978 che ha avuto vari aggiornamenti diciamo nel corso degli anni che è totalmente diciamo insufficiente in questo momento ma comunque è una pezza d'appoggio e attraverso diciamo questa legge sarebbe stato possibile comunque individuare gli strumenti normativi a livello regionale per poter intervenire io credo che tanti comuni soprattutto per quanto riguarda i privati per l'interlocuzione che ho avuto direttamente tante persone sono state costrette a dover per poter mandare avanti l'azienda sono state costrette a dover intervenire pagando tirando fuori di tasca propria risparmi o comunque per poter mandare avanti l'azienda perché se no altrimenti avrebbero dovuto chiudere imprese anche associazioni sportive realtà comunque territoriali che hanno un'importanza fondamentale in quei territori che sono state sostanzialmente io rimango ecco sono estremamente insoddisfatto del fatto che i privati non rientrino all'interno di questo discorso in considerazione anche dell'emendamento che avevamo presentato e che potrebbero potrebbero vederle vederle coinvolte per quanto riguarda i comuni sicuramente io assessore concludo presidente ho colto il discorso del pubblico interesse del trascendere quelle che sono le risorse di un piccolo comune ma un comune faccio l'esempio come Avigliano 600 mila euro di danni sono realmente un qualcosa di insostenibile per un bilancio di un piccolo comune come Avigliano oggetto numero 13 interroga la consigliera Meloni risponde l'assessore Fioroni prego consigliera grazie presidente torno su questo argomento per la seconda volta in questi mesi richiamando la mia interrogazione del 13 febbraio 2020 l'atto 79 in cui sollecitavo questa giunta a tenere alta l'attenzione sulla importanti risvolti e gli investimenti della multinazionale Enel sul sito Enel di Pirrafitta la premessa riguarda come sempre il protocollo di intesa che è stato firmato il 9 maggio 2019 tra i comuni di Piegaro Panicale insieme alla regione Umbria ed Enel Produzione e questo in quell'occasione fu spiegato che la firma del protocollo si inseriva all'interno del quadro dell'accordo quadro sottoscritto nel 2016 tra la regione ed Enel in coerenza con il progetto Futuré cioè con il piano pensato da Enel per la riqualificazione dei 23 impianti termoelettrici italiani a fonti fossili non più attivi oppure in fase di dismissione dato che sono appena terminati 17 milioni di investimenti destinati all'armodernamento della centrale di Petrafitta PF5 che evidenziano anche un positivo interesse e una continuità di interesse di Enel verso questo sito produttivo la regione Umbria sulla base degli impegni precedentemente presi dall'allora vicepresidente della giunta Fabio Paparelli si impegnò a dare esecutività e collaborazione al piano di riqualificazione di Petrafitta anche attraverso l'individuazione prioritaria di comuni di piegari panicali quali destinatari delle opportunità ma soprattutto delle risorse riservate alle aree di crisi non complessa che furono peraltro presentate alla cittadinanza e alle forze economiche e sociali del territorio nel settembre 2019 quindi sono due i capisaldi da cui noi dovremmo partire un protocollo di intesa e anche ovviamente gli investimenti che in questo periodo sono stati fatti da Enel oltre a che il concetto di area di crisi non complessa che può intercettare dei fondi importanti sappiamo che questo è un territorio che ha subito per decenni di importanti e impattanti conseguenze anche dal punto di vista ambientale e dobbiamo anche ricordare che nello stesso protocollo Enel prese l'impegno di verificare la fattibilità di un progetto destinato all'installazione su una parte delle aree a disposizione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a questo proposito è stato presentato un progetto per le celle di accumulo per 50 megawatt estendibili fino a 200 ed è stato messo in visione dei sindaci un possibile impianto fotovoltaico è stato realizzato anche un impianto da 30 megawatt attivo e funzionante sul tetto del museo paleontologico Luigi Boldrini che si trova a Petrafitta accanto all'area considerato che tra le questioni aperte vi è anche la riqualificazione delle cosiddette sezioni PF3 e PF4 ovvero la vecchia centrale a turbogas non più funzionante tale riqualificazione peraltro rientrava negli impegni assunti con il protocollo d'intesa inoltre dobbiamo anche considerare il tema spinoso della riconversione delle aree PF1 e PF2 cioè i due gruppi di produzione alimentati all'ignite e in disuso ormai dall'anno 2000 acquistati da Enel su un progetto regionale per la realizzazione dei quattro poli umbri in particolare destinati alle energie rinnovabili la priorità di tali aree è di valnestore sviluppo come sappiamo tutti in liquidazione ed oggi il compendio industriale è in oggetto di pignoramento la proprietà cioè la vecchia centrale PF1 e PF2 è fisicamente interconnessa con quella di Enel PF3 e PF4 oggetto di riconversioni attraverso il progetto Futurè e che la richiesta dei comuni è che il sito debba essere pensato come unico compendio con possibile divisione in due subare naturalmente definite della presenza del fiume Nestore considerato anche che per quanto riguarda il tema del reambientamento dei terreni circostanti gli impianti che sono stati a lungo oggetto di escavazione mineraria si è ancora in attesa di conoscere le intenzioni e i progetti di Enel a ciò si ricorda la presenza ancora oggi in quelle aree delle macchine operatrici da sempre immaginate dal territorio come elementi di unicità in un progetto di parco tematico sull'archeologia industriale connesso al museo paleontologico tempo consigliere parlo le conclusioni le amministrazioni inoltre di piegaure panicali hanno messo a disposizione di Enel anche una progettualità nell'ambito del progetto live rur per la riqualificazione delle aree rurali che l'unione dei comuni ha anche ottenuto come finanziamento da parte dell'unione europea ora tenuto conto che come ribadito anche più volte dalle amministrazioni di interesse di piegaure panicale con quell'accordo del 2019 si è comunque chiuso un percorso durato 20 anni e si è dato il via quindi a una riconversione integrale di quel sito produttivo e che ad oggi continuiamo comunque a vedere una situazione di stallo interroghiamo la giunta per conoscere lo stato di attuazione del protocollo e quali siano i tempi previsti per dare seguito agli intendimenti assunti tra le parti quali sono i progetti rispetto alle aree della vecchia centrale a turbogas cosiddette pf3 e pf4 quali sono anche gli intendimenti della giunta e di Enel in merito alle aree pf1 e pf2 di proprietà della Val Nestore sviluppo in liquidazione e soprattutto se dopo gli interventi di ammodernamento dell'area pf5 la volontà di Enel di realizzarvi impianti di accumulo e produzione la giunta intende sostenere la logica e naturale richiesta dei comuni esortando Enel ad una visione complessiva del territorio di Pietrafitta che abbracci non solo il nuovo ma anche le proprietà oggi dismesse e se saranno soprattutto presi in considerazione per dare anche concrete risposte a questo territorio in maniera più larga e complessa i futuri canali di finanziamento europei e regionali compreso il recovery fund sul tema dell'energia di sviluppo e rinnovabili dello sviluppo sostenibile e della mobilità elettrica peraltro tutti elementi e temi cardini della nuova programmazione grazie Presidente ritengo che la questione della riqualificazione dell'area della centrale di Pietrafitta vada inserita in un quadro più ampio che è quella della delle previsioni previste dal piano nazionale integrato dell'energia con l'obiettivo dell'uscita della produzione a carbone in Italia entro il 2025 e la conversione delle ex centrali a carbone quindi non penso che questa questione possa essere vista in maniera disgiunta da un'analaga situazione che è presente in quella di Bastardo e sulla base di questo si caratterizza l'interlocuzione fra la regione e Enel cercando proprio in una visione integrata territoriale regionale proprio in vista di quello che la consigliera Miloni evidenziava la necessità di costruire una strategia della sostenibilità in Umbria con delle dinamiche di specializzazioni ben definite quindi la prima parte riguarda il famoso piano Futurè Futurè che abbiamo visto è stato un piano di fatto fallimentare lanciato da Enel e su questo noi siamo abbastanza stati categorici nel dire che era un piano dei grandi sogni di fatto come ho già detto in questa aula precedentemente era un progetto di alienazione patrimoniale mascherato da piano per l'innovazione e su questo stiamo infatti interloquendo con Enel le domande arrivate in realtà non sono arrivate domande di progetti che dovevano avere il carattere sfidante soprattutto in ambito energetico dell'innovazione e si sta ragionando su progetti decisamente più concreti correnti con la strategia di sostenibilità anche territoriale detto questo il tema dell'area di Pietrafitta è un tema che necessariamente non può anche questo essere visto tramite alcune valutazioni di natura storica perché la prima idea di un piano che venne fatta per quest'area addirittura è datata aggiunta a Lorenzetti la Presidente Lorenzetti aveva l'idea di un parco tecnologico legato in cui si doveva puntare fortemente sulle rinnovabili di cui si perde traccia nell'amministrazione sempre della stessa parte politica nei mandati successivi tranne solo ritrovarne traccia solo nel 2016 di un primo accordo che non trovò alcuna attuazione concreta se non con la firma del protocollo a cui lei fa riferimento del maggio del 2019 mi permetta anche un po' dal sapore elettorale perché ha dieci giorni dalle elezioni comunali però questo lo mettiamo da parte in cui si definisce una dichiarazione di intenti teniamo conto che quell'area è ahimè vittima anche di un'altra pagina che è piena di ombre da un punto di vista politico che è quella della rannestore sviluppo questo sicuramente non possiamo scindere perché alcuni fondi che vengono dati alla quella società che oggi ricorda l'essere via liquidazione sappiamo che forse non sono stati spesi dove andavano spesi però è una vicenda che credo su cui e sappiamo anche che più volte è stato richiesto anche in ambito parlamentare di inserire l'area di peta fitta tra i siti di interesse nazionale per poter ripeto attivare una politica di sviluppo mirata quello che noi abbiamo oggi è quello che lei sostanzialmente diceva l'impegno di Enel intanto di investire parzialmente su quello che è un progetto legato alle rinnovabili in modo particolare a un sistema di produzione fotovoltaico da 20 megawatt e un sistema di accumulo sono stati investiti 15 milioni di euro per il miglioramento della centrale da un punto di vista dell'eccellenza tecnologica in termini di sostenibilità e Enel di fatto ha avviato anche come soggetto non responsabile però il procedimento amministrativo e di bonifica per favorire il ripristino ambientale dell'area di pietra fitta che è quello che è il tema rilevante su questo l'interlocuzione con Enel cercando di ipotizzare anche uno sviluppo del settore che si è allargato a nuovi ambiti della sostenibilità ma anche tenendo conto delle specificità del tessuto industriale che è presente nell'area che è un settore anche quello industriale che ha subito una certa criticità è un'interlocuzione continua ripeto che deve necessariamente vedere collegati il sito di Bastardo insieme a quello di pietra fitta tempo nel dettaglio in questi tre minuti dei singoli riqualificazioni dell'area è abbastanza difficile perché andrebbero valutati per i singoli asset di riferimento consigliera Meloni replica però poco perché avete sforato grazie presidente sarò breve io ringrazio l'assessore per il quadro che ci ha dato e per l'interesse che si sta mostrando in quest'area io dico soltanto le cose sono appunto come ho detto nell'interrogazione 20 anni che noi lì abbiamo tutta una serie di questioni non risolte e che il quadro sia più ampio rispetto a quello territoriale è chiaro infatti gli attori dovranno essere i comuni la regione e il governo con cui abbiamo avviato anche un'interlocuzione e abbiamo chiaramente chiesto di dare una mano e anche di attivarci un canale di collaborazione un tavolo con la regione stessa ed Enel ad Enel abbiamo più volte ribadito che ormai è il tempo delle azioni e non più quello delle promesse o delle progettualità che poi non si realizzano quindi in questo momento diventa fondamentale da oggi in poi per quel territorio cambiare marcia e tutti gli attori di questo processo lo devono fare quel territorio come lei ricordava è un territorio che ha bisogno di progetti innovativi e sfidanti e devo anche dire che noi siamo stati l'amministrazione comunale che ha ovviamente messo in luce tutte le difficoltà e tutte le criticità che aveva la società sviluppo valnestore che con noi è andata praticamente in liquidazione il protocollo d'intesa noi lo abbiamo diciamo non solo sopportato ma appunto firmato come amministratori locali in un momento in cui poteva sapere sicuramente e lascio la polemica così cadere di campagna elettorale ma a dieci giorni dal voto non è che abbiamo costruito il nostro consenso ovviamente su questo firma di protocollo d'intesa ma voleva essere semplicemente il punto di partenza dopo tanti anni soprattutto da quel 2016 in cui si era ricominciato a valutare una possibilità concreta per quel territorio quindi è fondamentale che si passi ad azioni concrete soprattutto che finisca i termini in maniera incisiva e concreta questo momento e questa fase di stallo e questo immobilismo che vede quel territorio ovviamente insieme a quello di Bastardo procedere soprattutto verso una fase nuova di sviluppo grazie nomina consigliere regionale vicepresidente paola fioroni chi la illustra illustro io risponde l'assessore coletto prego consigliere bori grazie presidente noi ci troviamo costretti nostro malgrado a portare in consiglio regionale il tema della nomina della consigliere regionale vicepresidente di questa assemblea paola fioroni a presidente dell'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità questo osservatorio regionale nasce in Umbria prima che nelle altre regioni ed è pensato come un organismo per l'associazionismo per il terzo settore per le realtà civiche e le realtà tecniche professionali per avere un luogo di ragionamento di dibattito di critica di consiglio l'attuale nomina dal nostro punto di vista è illegittima ma sicuramente è politicamente inopportuna perché sottrae a tutte le realtà che ho detto ora sottrae uno spazio di ragionamento e di confronto per riportarlo invece sottraendo da loro riportarlo a chi questo spazio già lo ha perché c'è il paradosso che la consigliera Fioroni dovrà presiedere questo osservatorio portare avanti lì le osservazioni e poi giudicare se stessa come membro della terza commissione che si occupa delle stesse tematiche c'è il paradosso quale può essere la terzi età di una persona che è esponente di un'amministrazione regionale e che deve contemporaneamente riuscire a ragionare mediare ascoltare anche criticare le scelte portate avanti come presidente dell'osservatorio non funziona noi ci troviamo qui il nostro malgrado perché questa nomina non dove avvenire perché una volta avvenuta abbiamo dato più di due settimane per poter dare le dimissioni da questo ruolo e ristabilire la normalità in tutte le altre regioni tutti gli osservatori non sono presieduti da un consigliere regionale è un paradosso e nessun altro nostro organismo è presieduto da un consigliere regionale i consiglieri regionali hanno il ruolo politico istituzionale e la presenza nei commissioni per poter fare tutto quello che ritengono quindi noi troviamo che questa situazione sia totalmente fuori luogo inopportuna dal punto di vista politico ma che abbia anche dei profili di illegittimità perché come sapete bene ognuno di noi non può presiedere nessuna realtà collegata alle previsto dal nostro statuto e non solo alle nomine di livello regionale perché abbiamo già i nostri spazi i nostri ruoli i nostri mezzi per fare proposte critiche consigli per cui rilevato tutto questo noi riteniamo bonton istituzionale sarebbe non aver accettato il ruolo una volta accettato può accadere che magari non si siano valutate tutti gli aspetti ci si può dimettere se questo non avviene noi siamo costretti a sollevare qui e non solo adesso ascolteremo la risposta i paradossi i paradossi evidenti a tutti di questa nomina grazie Assessore Coletto prego allora l'articolo 352 della legge regionale 11 2015 istituisce presso la giunta l'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla convenzione a onure ratificata con la legge 18 del 2009 con la funzione di promozione e sostegno delle politiche inclusive in materia di disabilità il comma 3 del medesimo articolo 352 attribuisce all'osservatorio i seguenti specifici compiti studio e analisi della condizione delle persone con disabilità rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità formulazioni di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie l'osservatorio recita il successivo comma 4 è costituito con decreto il presidente della giunta regionale dura in carica tre anni ed è composto da il presidente della giunta o suo delegato in qualità di presidente il presidente dell'unione province italiane UPI Umbria o suo delegato presidente dell'associazione nazionale comuni italiani ANCI Umbria o suo delegato cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie un membro in rappresentanza del forum del terzo settore Umbria un membro nominato congiuntamente dell'azienda ULS l'osservatorio dunque non è composto da figure tecniche propriamente intese ma una natura mista organi di parte politica presidente della giunta e presidente ANCI e del LUPI rappresentanti dell'associazionismo delle famiglie interessate alla disabilità e del terzo settore ed infine a coprire la peculiarità sanitaria un rappresentante delle ASDA all'osservatorio non si applicano le disposizioni della legge regionale 11 del 95 disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi tale norma con le modifiche apportate alla legge regionale 17 del 2017 allo specifico articolo 1 comma 1 disciplina le nomine e le designazioni di competenza delle regioni in enti e aziende dipendenti società a partecipazione regionale nonché altri organismi pubblici e privati esterni alla regione risultando inapplicabili agli organismi operanti in ambito interno della regione stessa come quello del caso in specie la procedura stabilita per le suddette nomine e designazioni è quella dell'evidenza pubblica ai sensi articolo 2 4 entro il 31 ottobre di ogni anno è pubblicato a cura della struttura regionale competente l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo i soggetti interessati in possesso di specifici requisiti stabiliti dall'avviso presentano la domanda la giunta regionale valuta le candidature pervenute e solo successivamente all'individuazione del soggetto ritenuto idoneo da parte dell'organo collegiale viene formalizzato il decreto di nomine del presidente della giunta regionale il soggetto individuato dalla presidente quale suo rappresentante nell'osservatorio non è un nominato o disegnato trattandosi di delega nel diritto amministrativo la delega è inquadrata come atto autonomo del delegante il quale può conferire volontariamente e individualmente lo svolgimento dei compiti e delle attività sue proprie ad altro soggetto con delega non si trasferisce la funzione che resta in capo al delegante ma solo l'esercizio di esse in tal senso la delega è soggetta a controllo ed è sempre revocabile la delega è in ogni caso espressione della volontà dell'organo monocratico e non di quello collegiale come nel caso della nomina quindi non trattandosi di nomina ai sensi della legge regionale 1 del 2017 sono nemmeno ostensibili al caso in specie le cause di esclusione agli incarichi regionali come disciplinate l'articolo 3 come 1 lettera salvo diverse disposizioni di legge non possono essere candidati o comunque non possono ricoprire gli incarichi di cui la legge regionale 11 del 2017 i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali inoltre le attività esercitate dall'osservatorio e i compiti adesso assegnati alla legge regionale 11 del 2015 non configurano regimi di incompatibilità incompatibilità che peraltro deve essere sempre stabilita da una fonte normativa i compiti svolti dall'osservatorio come adesso iscritti all'articolo 352 legge regionale 11 del 2015 sono riconducibili a tre fatti specie attività di studio e ricerca sulla condizione delle persone con disabilità a tal fine rileva gli interventi a favore delle persone con disabilità analizza la corrispondenza di tali diritti con la piena soddisfazione della convenzione ONU e analizza la qualità dei servizi formulazione di pareri eventualmente richiesti dalle strutture regionali e di risposte alla regione in materia di disabilità promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità delle loro famiglie anche promuovendo l'attivazione di formi di collaborazione che si tratta di un parere quindi cerco di concludere velocemente l'osservatorio dunque non ha poteri decisori non emette pareri e valutazioni sull'attività regionale o su provvedimenti assunti dagli uffici non ha poteri di accentramento o di controllo preventivo successivo sugli stessi e i parametri non esercita alcuna funzione di natura discrezionale l'osservatorio come configurato dalla norma è componente essenziale ed importante del sistema allargato sociale che insieme al terzo settore delle associazioni familiari e a tutti gli altri soggetti interessati ognuno entra il proprio ambito di competenza con la regione per adivenire le soluzioni inclusive concludendo la nomina della dottoressa Fioroni non confligge nemmeno con il ruolo di consigliere regionale facente parte della terza commissione in quanto l'assemblea legislativa e la commissione non valuta l'attività dell'osservatorio e nessuna relazione per tali fini valutativi è rimessa agli stessi peraltro non risultano norme ove è inserita una clausola valutativa afferente all'osservatorio l'individuazione di consiglieri regionali dedicati dal presidente in organismi regionali è prassi consolidata ad esempio nell'ambito del consiglio regionale dell'immigrazione CRE il presidente della giunta regionale di turno ha delegato quasi sempre tale ruolo si ricorda a tal fine che nell'undicesima nella nona legislatura 2010 2015 la presidente Marini con decreto 39 2011 aveva costituito il consiglio regionale dell'immigrazione CRE delegando alla propria funzione il presidente con decreto numero 39 2015 consigliere regionale Orfeo Goracci una seconda volta stesso organismo e stesso ruolo di presidente con decreto 20 2012 veniva delegato al consigliere Fausto Garanello per quanto concerne infine la richiesta esplicitata in interrogazione di conoscere i criteri che hanno portato all'individuazione della consigliere Fioroni si precisa che pur non stabilendo l'articolo 352 della legge regionale 11 2015 requisiti del soggetto delegato e neppure individuando le condizioni impeditive sostanziandosi la medesima delega nella formazione di un rapporto di natura eminentemente fiduciaria che intercorre tra delegante e il delegato tuttavia tale individuazione è stata effettuata sulla base di criteri di competenza ed esperienza l'autoressa Fioroni infatti come si evince dal curriculum pubblicato sul sito istituzionale dell'assemblea legislativa dunque rivenibile da tutti ha ricoperto il ruolo di consigliere nazionale della croce rossa europea rappresentante italiana di progetti della commissione europea eccetera eccetera dunque l'autoressa Fioroni senz'altro ha l'esperienza in ambito sociale con particolare attenzione delle politiche inclusive ed è in possesso delle competenze per svolgere pienamente il ruolo assegnato anche alla luce dell'evoluzione normativa di riforma del terzo settore recata del decreto legislativo 117 del 2017 e alle normative operanti in ambito sociale e in materia di tutela della disabilità ma aggiunto inoltre che è stata coordinatrice nazionale delle attività socio-assistenziali grazie qualche replica consigliere Fora poi abbiamo finito il question time ma sinceramente noi avremmo preferito che a questa question time rispondesse la Presidente visto che è la Presidente che ha firmato il decreto di nomina della Vice Presidente Fioroni la risposta dell'assessore è a dir poco imbarazzante per l'ennesima volta continua a leggere e poteva farlo in tempi molto più ridotti perché il testo della legge che istituisce l'osservatorio che oggi ci ha riletto in maniera completa ed esaustiva lo conoscevamo quindi poteva ottimizzare il tempo non leggendo un testo che è pubblicato e che conosciamo la domanda ha una ha una veste politica assessore a cui lei non ha risposto citando norme che in punta di diritto potrebbero a interpretazione della Giunta legittimare questa nomina la risposta sul piano giuridico non ci convince perché la delega è un istituto che non è presente nel regolamento regionale del consiglio regionale ma le funzioni della presidente sono delegabili a funzioni amministrative non politiche nel regolamento del consiglio non è presente l'istituto della delega ma qualora ci fosse un vulnus giuridico che in punta di diritto legittima questa nomina provvederemo sicuramente a evidenziarlo nelle prossime sedute e a proporre una soluzione che renda chiara la divisione dei compiti tra il ruolo politico e quello amministrativo ma oggi il tema è tutto politico il tema legato a una decisione che ancora una volta nell'ambito del welfare esclude i cittadini le associazioni il terzo settore dalla partecipazione e da una storica in questa regione pratica di condivisione che ancora una volta questa giunta rimarca in termini di come dire presidio delle funzioni escludendo da quelli che sono i luoghi della partecipazione le associazioni e il terzo settore in un organismo che è consuntivo e che come tale è stato pensato dal legislatore perché i diritti delle persone disabili fossero rappresentate esattamente da chi li vive e cioè dagli stessi disabili a questa domanda politica non ci avete risposto in ogni caso noi ovviamente continueremo non per ovviamente individuare un problema personale conosciamo le competenze della vicepresidente Fioroni che sono più che legittime e anche in questo caso era del tutto inutile il rimarco sulle competenze che noi riconosciamo c'è un problema politico a cui questa giunta oggi non ha risposto che la situazione è un problema che la situazione che la situazione è un problema che le competenze Grazie.